Nel trentennale dell'alluvione del 1994 in Piemonte, l'auditorium della sede di Corso Inghilterra della città metropolitana di Torino ha ospitato un convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università, dall'Ordine dei Geologi del Piemonte e dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR. Tra i temi oggetto del confronto, l'evoluzione scientifica e operativa degli interventi e degli studi finalizzati alla prevenzione delle catastrofi naturali, il rilevamento e la gestione dei dati e il loro utilizzo per l'elaborazione di mappe del rischio idrogeologico fondamentali per la programmazione urbanistica. I geologi hanno in mano gli strumenti per andare sui territori comunali, fare gli studi geologici di corredo alle varianti di PRGC. Ricordiamo che dopo il 1994 molti piani regolatori hanno visto completamente stravolte le loro previsioni e quindi hanno dovuto rifare i piani regolatori costruendo queste varianti in cui la componente geologica era una componente essenziale, ovviamente. Quindi i geologi hanno avuto l'occasione di sperimentare sul territorio la loro competenza professionale producendo carte come la carta geologica, la carta geomorfologica, idrogeologica, la carta delle indagini, la carta dei dissesti, eccetera, che comunque hanno determinato per la nostra categoria sicuramente un avanzamento dal punto di vista sia delle conoscenze sia scientifico. Le frane, le alluvioni, i dissesti idrogeologici non conoscono i confini amministrativi e istituzionali, non fanno differenza tra Bardonecchia, Gravere, Condove, Chiomonte o Bussoleno o con qualche paese del Pinerolese o dell'area delle Porediese. Quindi dobbiamo incominciare a ragionare come area vasta, dobbiamo supportare i piccoli comuni nella redazione dei piani di protezione civile e anche dei piani regolatori e dobbiamo portare avanti un'azione politica forte dove si dice che su determinate tematiche come quella della tutela del territorio e come quella della pianificazione strategica è il momento di superare il limite e i confini amministrativi dei comuni ma bisogna delegare a un ente più vasto, di area vasta, la costruzione di questi documenti e di questi percorsi che servono non solo a manutenere e salvaguardare il territorio ma servono soprattutto a salvare vite umane.